Amici, nemici, dieci. Questa è l'ultima puntata, nove mesi dopo. Secondo te cosa farà Cristian? Episodo dieci. Nove mesi dopo. Sono tornata a casa tardi ieri sera. Davanti alla televisione, seduta sul divano, letto le mail della mia posta privata. Una mail di Giulia in cui mi scrive della nostra prossima vacanza. Una mail di Enrico, un altro mio amico che organizza una cena per sabato e una mail di indirizzo sconosciuto. Già dalle prime parole capisco chi mi scrive. Mia cara, ti scrivo perché non voglio che pensi che ti odio per quello che hai fatto. Ti ho pensato tanto in questi mesi. L'ultima volta che ci siamo visti non ti ho detto la cosa più importante, che ti amo e ti amerò sempre. Ogni altra parola è superflua, amore mio. Non dimenticarmi mai. Se vuoi rivedermi, scrivermi perché un vero amore non ha mai fine. Tuo Cristian. Tuo Cristian, tuo Cristian. È passato quasi un anno da quel pomeriggio al parco Sempione. Come già ho detto, il giorno dopo il nostro incontro sono andati in questura, l'ho denunciato. Ho portato la statuetta alla polizia e i poliziotti sono andati subito a casa sua, ma non lo hanno trovato. Da quella sera, insomma, Cristian è scomparso e io non ho avuto più sue notizie. La polizia mi ha convocato diverse volte, però io non ho potuto dire niente perché non sapevo niente. Invece avevo una domanda per il commissario. Secondo lei perché Cristian ha tenuto la statuetta, gli ho chiesto. Ah, le manca un pezzo del puzzle. Ah, ha esclamato lui. E poi ha aggiunto. La statuetta era di metallo, quindi non si poteva rompere. Poteva buttarla nell'immondizia, ma una statuetta così magari la poteva trovare qualcuno e tenerla. E poi chissà, magari riconoscerla come statuetta di quella catena di alberghi. L'ha messa in un posto sicuro dove nessuno poteva trovarla. Questa, naturalmente, è solo un'ipotesi. Soltanto il suo ex fidanzato sa la vera ragione. Hanno liberato Andrea due giorni dopo. Contento ma deluso, naturalmente. Pensavo di conoscere Cristian, invece, mi ha detto. Ma come diceva Federico, nessuno conosce mai veramente qualcuno. Sei arrabbiato con Cristian? Ho chiesto io. Non ci voglio pensare, ha risposto lui. Voglio solo pensare ad andare avanti. Ma tu? Come hai avuto il coraggio? Tu lo amavi. Sì, ma non potevo accettare di stare con un assassino e poi significava lasciare pagare te al posto suo. Andrea non ha detto niente. Mi ha salutato ed è andato a casa di Alice che lo aspettava. So che si sposeranno il mese prossimo. Sono ancora qui davanti al computer. La casella me è aperta. Cosa faccio? Gli rispondo. E se gli rispondo cosa gli scrivo? Che lo amo più, che non lo amo più e che forse non riuscirò mai più ad amare nessun altro perché avrò paura di vedere quel lato oscuro in tutti gli uomini? Oppure?